carissimi pace buona giornata dio benedica la vostra vita oggi grazie a dia 28 ottobre e ci accingiamo a leggere quanto è scritto il verso 7 del capitolo 12 della prima corinzi dove ispirato dallo spirito santo l'apostolo paolo scrive ora a ciascuno è data la manifestazione dello spirito per il bene comune nel capitolo 12 l'apostolo paolo si preoccupa di presentare uno degli aspetti della dottrina dei doni dello spirito santo dei carismi dello spirito santo l'altro aspetto che è più che altro di tipo pratico viene poi presentato nel capitolo 14 dove paolo dà delle istruzioni ben precise riguardo all'istruzione scusate all'esercizio dei doni nella chiesa i doni dello spirito santo carismi dello spirito santo sono non soltanto una bella dottrina ma sono anche una meravigliosa realtà che ancora oggi può e deve essere vissuta da parte dei credenti quando si riuniscono insieme per celebrare il nome del signore e questi carismi debbono essere esercitati secondo i dettami che il signore ci dà mediante la sua parola e quindi ci sono alcune brevissime riflessioni che voglio fare insieme a voi questa mattina innanzitutto un invito un invito a ricercare la pienezza dello spirito santo che è qualcosa di necessario se vogliamo essere usati da dio per l'esercizio dei carismi la vogliamo ricercare vogliamo rimanere ai piedi del signore fin quando non la riceviamo e se l'abbiamo ricevuta vogliamo continuare a rimanere ai piedi del signore affinché quest'unzione sia fresca ogni giorno si rinnovi nella nostra vita non vogliamo infatti vivere di ricordi o di glorie passate vogliamo essere uomini e donne che nell'attualità sono ferventi nello spirito e servono il signore questi carismi sono inoltre e devono essere inoltre esercitati secondo i principi che sono stabiliti nel capitolo 14 perché dio non è un dio di confusione ma un dio di ordine e quindi se è vero che il signore spande i suoi carismi è altrettanto vero che noi dobbiamo permettere allo spirito che spande i carismi di guidarci mediante la parola che ci è stata data infatti lo spirito tra le altre cose compie proprio quest'opera rende attuale la parola di dio nella nostra vita e se tutto questo viene fatto allora naturalmente ciò che verrà fuori sarà qualcosa che di benedizione di benedizione per quanti sono salvati ma anche per quanti ancora la salvezza non l'hanno realizzata infatti nel capitolo 14 l'apostolo paolo evidenzia che ad esempio se qualcuno che non è credente entra in una chiesa e lo spirito di dio in modo profetico spinge qualcuno a rivelare i peccati di quel tale questi si inginocchierà davanti a tutti confesserà che il signore è presente e donerà il suo cuore a dio affinché la sua vita possa essere trasformata questo quindi ci ricorda che i doni dello spirito l'opera dello spirito sono essenziali nella chiesa di ogni tempo anche nella chiesa di oggi iper tecnologica dove delle volte siamo diventati talmente bravi e capaci che possiamo pensare che ci bastino le nostre conoscenze e le nostre abilità ma dio ci aiuti a ricordare che l'opera di dio non è né per forza né per potenza né per potenza ma per lo spirito suo santo e infine questi doni vengono dati per il bene comune lo scopo infatti della pienezza dello spirito santo e dei carismi che vengono esercitati nella chiesa non è quello di innalzare l'uno a discapito dell'altro non è quello di creare dei guru scusate dei punti di riferimento nella comunità ai quali rivolgersi quasi con spirito adorante chi esercita un carisma è semplicemente un fratello una sorella di cui dio si sta servendo per il bene comune affinché tutti ne possano trarre beneficio e se questi saranno i nostri sentimenti sia nell'esercizio dei doni sia nel ricevere i benefici che da questo esercizio ne derivano allora la nostra vita prospererà e si edificherà sul solito fondamento che cristo gesù e non saremo mai dei bambini sballottati quella da ogni evento di dottrina ma saremo degli uomini e delle donne mature che continueranno a procedere lungo la strada che cristo ha tracciato col solo scopo di poter ereditare la vita eterna e un giorno contemplare il signore nell'aria perciò voglio invitare me e tutti quanti noi che siamo riuniti a ricercare la pienezza e i doni dello spirito e a permettere al signore di servirsi di ciascuno di noi secondo il suo proposito perché l'opera è di dio ma egli ha bisogno di cuori che si lasciano toccare e si lasciano usare secondo il suo divino piano che la grazia di dio la sua benedizione e la sua pace ci accompagnano ancora oggi dio sia con tutti quanti noi